Ciao a tutti, felice domenica. Allora siamo contenti perché oggi, anche ieri, il mio Milan ha vinto e noi, i tifosi rossi e neri, siamo contenti. Forza Milan e speriamo che le cose vadano avanti per il verso giusto. Siamo molto felici di quello che la squadra ha fatto e speriamo di bene. Bene, adesso poi volevo anche parlarvi del progetto Artec e fra un po' di tempo avremo la nostra pagina Facebook, quindi vi terrò aggiornato su tutte le novità, le varie cose che potremmo fare e vi aspetto numerosi ad iscrivervi alla pagina appena ci sarà. Vorrei parlare del mondo dell'Artec, perché stare all'Artec è una bella cosa. E ve la consiglio anche perché è disabile come me, insomma, ha un bel ambiente, sta bene. Poi nella nostra pagina Facebook faremo tantissime cose, metteremo articoli, se volete darmi qualche consiglio potete pure farlo. Io accetto di tutto. Proponete pure i vari argomenti, noi trattiamo di tutto, che riguardi la disabilità e non solo. Poi ho dedicato anche una poesia all'Artec che potrete trovare presto nel sito Poetare appena avarisco a pubblicare. Insomma, per il resto, volevo salutare tutti gli amici e dedicare loro questo video, perché dire loro che vi voglio bene. E così, vi saluto e vi aspetto con le vostre visualizzazioni. Forza ragazzi, dovete iscrivervi al mio canale, perché voglio che siete tanti a seguirmi. Buona domenica a tutti e perché milanista, forza mila. Ciao ciao!